Mare, montagna o campagna, elettorale. Gli italiani sicuramente auguro di andare in vacanza, noi bisognerebbe andare a votare, sicuramente, sarebbe meglio. Ad agosto speriamo tutti di andare al mare. Quindi gli italiani possono stare tranquilli. Il generale agosto funziona. Ci sarà campagna elettorale come tutti gli anni. In Puglia i turisti vengono a fare campagna elettorale. Non penso assolutamente che si farà la campagna elettorale perché abbiamo ancora tantissimi provvedimenti da portare avanti che necessitano assolutamente di questa maggioranza. Mare o montagna? Penso mare. Arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.